buongiorno ben trovati anche oggi a mattina 9 oggi apriamo la nostra mattinata introducendovi al mondo dei consumi che purtroppo è sempre più in crisi a causa della pandemia e che naturalmente ci ha costretti a ripensare anche all'universo modo in cui spendiamo i nostri soldi indirizzandoci sempre di più verso l'acquisto dei beni essenziali ciò comporta in questo momento storico le difficoltà da parte di tante imprese e anche da parte di numerosi lavoratori costretti anche al precariato di tutto questo ne parliamo oggi con il nostro ospite che qui con noi io do il buongiorno rosario stornaiolo presidente del consumatore di campagna salve grazie per essere qui con noi presidente buongiorno e grazie a voi dunque presidente noi in realtà eravamo abituati ad affibbiarci l'appellativo di società di consumo la pandemia ha penalizzato gravemente enormemente questo settore e ci introduce naturalmente ci porta solamente all'acquisto dei beni essenziali quelli di prima necessità sembra un ritorno quasi al passato la situazione al momento come si può interpretare perché la crisi per tantissimi settori si sente del palese sì perché questa pandemia oltre ad essere una pandemia che ci pone problemi di salute e sanitarici sta creando anche una grandi problemi all'economia abbiamo sempre meno soldi siamo più preoccupati ognuno di noi vive come se su una bolla dentro una bolla perché non si rende conto che cosa sta succedendo o in qualche modo ha problemi e preoccupazioni per soprattutto per il futuro lei ha ragione quando parla di consumi che si sono modificati perché siamo modificati noi stessi se si pensa che il settore del turismo torna 30 anni indietro 1975 rispetto alle spese la benzina addirittura diminuisce perché non si può girare tutti i giorni quindi siamo intorno al 3 4 per cento il meno i trasporti lo stesso c'è un modo di vivere completamente diverso e c'è questa pandemia sta cambiando ora ma credo che cambierà anche nel futuro il nostro modo stesso di vivere se si pensa che alcuni economisti stanno dicendo affermano che solo nel 2023 noi raggiungeremo nuovamente i livelli del 2018 in realtà stiamo vivendo una vera e propria metamorfosi e non ce ne stiamo probabilmente accorgendo quello però di cui possiamo esserne certi presidente è che al momento ci sono molte crisi che sono in fallimento quindi le chiedo proprio un bilancio quante aziende sono o meglio saranno proiettate al fallimento attualmente noi abbiamo che ci sono state 73 mila aziende nel paese che hanno chiuso e 17 mila aziende rischiano di non aprire del resto girando per napoli noi ci accorgiamo delle tante serrande che sono chiuse quindi c'è una forte preoccupazione perché le vendite sono calate enormemente parliamo di oltre il 50 per cento che riguarda l'abbigliamento nessuno ha voglia di visto che si esce poco di comprare vestiti di un certo tipo non si comprano più macchine si compra che cosa si compra e questo è anche frutto del cambiamento molti strumenti per la casa perché si sta più in casa stiamo scoprendo che stare in casa va bene gli affetti gli anziani cose che credo cambierà e la voglia di riorganizzare quindi i nostri spazi abitativi anche se qualcuno sostiene che in qualche modo stiamo costruendo una società più astiosa più arrogante più chiusa in se stesso io mi preoccupo molto ma credo un po tutti dei ragazzi che non stanno non stanno andando a scuola mi preoccupo moltissimo dei tanti ragazzini napoletani che vivono di ricoli nei quartieri difficili che non hanno gli strumenti per poter seguire la data quindi stiamo costruendo anche una società di ragazzi che saranno diversi da quelli diversi da quelli che conoscevamo ecco prima della pandemia tra l'altro presente dobbiamo avere in collegamento un esercente di modo da comprendere qual è la vera situazione abbiamo con noi infatti cristiano gilberti commerciante napoletano buongiorno gilberti grazie per essere qui con noi salve senta io volevo chiedere di cosa si occupa qual è la situazione dal suo punto di vista il crollo dei consumi è veramente così palese sì vabbè ci occupiamo quanta due anni di caudesi a montaia ormai sempre e crollo ormai è pauroso io vi dico sto lunga abbiamo fatto un parato meno 60 per cento per la cosa sia perché noi come tutti i commercianti di dicembre ma è forse il mese un po' più Giliberti purtroppo io non riesco il collegamento non ci aiuta a comprendere bene le sue parole però è comprensibile lo stato d'animo intanto quello che si percepisce che c'è tanta difficoltà io volevo chiederle presidente quanto lo stato può aver beneficiato può aver aiutato secondo lei gli esercenti il suo punto di vista io credo che bisogna fare molto per saldare il piccolo commercio in una città come Napoli se a Napoli muore il piccolo commercio muore gran parte della vita della città i consumi sono anche un segnale di libertà cioè tu scendi vai in giro sei più libero in una situazione del genere noi stiamo cannibalizzando il piccolo commercio attraverso l'unica cosa che è aumentata che sono le vendite online le vendite online significano due cose uno distruggere il piccolo commercio due dare risorse ad aziende che non vivono alle multinazionali che per l'appunto alle multinazionali e alle aziende del nord quindi è anche un problema meridionale perché questa pandemia sta ancora di più evidenziando una divisione enorme nel paese tra un nord che bene o male riesce a superare ad incrementare anche se con minimo i consumi è un sud dove i consumi crollano enormemente abbiamo il collegamento telefonico ben ritrovato Giliberti le volevo chiedere in realtà se secondo lei le misure del governo e della regione in questo periodo storico sono state sufficienti? Sì a parole a parole purtroppo hanno fatto bellissimi proclami ma non tutti hanno avuto i ristori sperati il problema è proprio questo cioè noi dobbiamo pure andare avanti siccome ci fanno stare chiusi dovremmo avere dei ristori per pagare fitti dipendenti tasse e quant'altro Senta noi siamo adesso è molto difficile noi adesso siamo in zona gialla in questa settimana attendendo quale sarà l'esito del weekend sono iniziati i saldi anche in campagna è stato un inizio non tanto incoraggiante appunto in sordina ma purtroppo flop può essere però ecco in questi prossimi giorni magari fino a venerdì essere un supporto quantomeno per limitare i danni avuti nella fase prenatalizia Noi ci speriamo tantissimo anzi chiediamo ai cittadini del centro di Napoli di venire a passeggiare nelle nostre strade spendere ai facci e spendere meno online io non voglio adesso andare contro l'online ma almeno spendere un pochettino nei negozi di vicinato Senta con il presidente Sonnagliolo in realtà si parlava della possibilità di un approccio diverso al concetto dell'acquisto ma soprattutto un concetto diverso al nostro modo di spendere i soldi Per quanto riguarda i saldi qual è il suo punto di vista? Ci vorrebbe un po' più libero abitrio anche da parte degli esercenti? Sì questo sicuramente però la realtà è che ci sono veramente pochi soldi da spendere Poi spendono comunque sull'online E' stato facilitato, lo Stato ha facilitato molto l'online Soprattutto con le chiusure di nuovi negozi Grazie, grazie Giliberti Che cosa succederà a questo punto, presidente? Vieni da chiederlo, quale sarà il prossimo scenario? Io credo che questa pandemia, speriamo che finisca presto Speriamo che i vaccini funzionino e funzionino al più presto Ma credo che cambierà anche nel futuro il nostro modo di essere, di approcciarci verso i consumi I commercianti vanno aiutati, ma devono anche aiutarsi loro stessi Non possono pensare che dopo la pandemia si ritorna a come eravamo prima Non ci dimentichiamo che noi siamo l'unico paese in Europa che non ha superato ancora del tutto la crisi del 2008 E adesso si aggiungerà questa crisi che viene fuori I commercianti, due saranno, credo e suppongo le cose Uno che dovranno sempre di più unirsi e associarsi tra di loro rispetto anche ad acquisti da fare insieme E specializzarsi Noi abbiamo una struttura commerciale in Italia A Napoli in particolare la tenevamo molto frastagliata Questo era anche un motivo di diseconomia Credo che si andrà sempre di più alla riscoperta dei negozi di vicinato Uno dei dati che esce fuori da questa pandemia è che si è ritornati ad acquistare poco Ma nei negozi di vicinato Tanto è vero che gli ipermercati stanno in grandi difficoltà Quindi è questo il futuro Chiaramente le persone non hanno soldi Lo diceva bene anche il commerciante Ma anche perché sono fortemente preoccupati per il futuro Qua chiudono le aziende Si tiene fuori completamente Si stanno licenziando persone Addirittura si pretende che lavoratori da Castellammare si trasferiscono al nord Stiamo veramente costruendo una società che sarà poi difficile riprendere e motivare Secondo lei quando ci sarà questa evoluzione in termini di positività Quando possiamo avere un cambiamento, una vera ripresa economica Da un punto di vista proprio temporale L'anno prossimo lei lo accennava prima Però volevo conoscere il suo punto di vista Sì, io credo che innanzitutto deve finire la pandemia Perché siamo tutti quanti preoccupati Noi viviamo anche senza accorgersene con grande preoccupazione di essere infettati Per fortuna arrivando questi vaccini stiamo scoprendo che la gente vuole vaccinarsi Sette italiani su dieci hanno già affermato che si vaccineranno Due sono incerti, solo uno su dieci Quindi aspetteremo il 2023 perché dovrà ancora trascorrendo Economicamente credo che nel 2023 si può pensare Se la pandemia finisce e termina Ad una ripresa graduale Si parla del 2023 Il 2023 si può pensare di ritornare al 2019 Però i consumi cambieranno Oramai le persone hanno più voglia di fare in casa Alcune cose di andarla a comprare Però senta, prima di una conclusione intervista Secondo lei come si potrà salvare il mondo del lavoro? Perché già c'era il precariato nella fase pre-covid Che in questo momento si acquisisce maggiormente Quindi come salvare il mondo del lavoro? Se il paese non si rende conto che il mezzogiorno sta fallendo Che il mezzogiorno è a livelli europei più bassi, peggio della Grecia Non si faranno investimenti Se si continuerà a licenziare è chiaro che non ci sarà salvezza Per i consumatori cittadini del mezzogiorno Quindi c'è bisogno di azioni concrete Perché non si può costringere un cinquantenne a inventarsi un lavoro di rider Non si può costringere decine e decine Tutta la nostra gioventù che non pensa ad altro che andare al nord Perché si rende conto ed è più attenta di noi Che qui nel mezzogiorno il lavoro non c'è e non ci sarà Grazie, grazie per essere stato qui con noi Grazie a Presidente Rosario Stornaiolo Presidente di Feder Consumatori Campania Naturalmente ti saluto anche Cristiano Giliberti E tutta la nostra vicinanza a tale settore Che sta vivendo momenti di serie difficoltà Grazie Noi ci troviamo subito dopo la pubblicità Restate con Mattia 9